Antonio Natale era scomparso da casa sua dal Parco Verde di Caivano il 4 ottobre del 2021. Il suo corpo senza vita, dopo giorni di ricerche e speranze da parte dei familiari, era poi stato rinvenuto in un campo al confine tra i comuni di Acerra e Afragola. Oggi, a quasi due anni di distanza, la svolta, con l'arresto di una persona gravemente iniziata del reato di omicidio e dei connessi reati di detenzione e porto d'arma da sparo aggravati dal metodo mafioso. Si tratterebbe di Domenico Bervicato, anche lui 22enne, come la vittima. Bervicato, secondo le prime informazioni, si troverebbe già in carcere per droga da un anno. Il GIP di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea, ha emesso il provvedimento nei suoi confronti, che sarebbe già stato gravemente indiziato dei reati. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla DDA, l'indagato avrebbe ucciso Natale esplodendo tre colpi di pistola, che hanno ferito mortalmente la vittima alla testa e al torace. L'omicidio sarebbe stato deliberato e premeditato per punire Natale, che avrebbe sottratto armi, droga e denaro al gruppo criminale Bervicato, per conto del quale effettuava attività di spaccio di droga. Il cadavere è stato trovato in mezzo a un campo il 18 ottobre 2021. Per due settimane i familiari scesero per le strade del Parco Verde di Caevano, gridando «Chissà parli» e invitando chiunque avesse sue notizie a collaborare per il ritrovamento di Antonio, vivo o morto. Poi si scoprì il cadavere del ragazzo, che era stato prima pestato con violenza e poi ucciso a colpi di pistola.